Ed eccoci qui in un nuovo video ragazzi sul Fanta Calcio Prima di cominciare ti chiedo se ancora tu non l'avessi fatto Iscriviti al mio canale, è gratis e lascia anche un bel like così YouTube mi considera un po' di più Poi voglio anche dirti una cosa Allora in questo video troverai la mia top 11 sul Fanta Calcio Più una alternativa e una scommessa per ogni ruolo Però se tu vuoi un consiglio personalizzato sulla tua squadra Lascia un commento qui sotto o nel video che è uscito ieri Oppure vieni in live domani quindi venerdì alle ore 17 Perché sarò in live per rispondere a tutte le domande sui consigli del Fanta Calcio E avremo un ottimo ospite Sto parlando di Fanta Virus Fanta Virus è un altro canale che parla di Fanta Calcio Ti consiglio di seguirlo e per questo ti lascio il link al suo canale qui sotto in descrizione Veramente è un canale che merita un amico del mio canale Per cui se ami Fanta Golli e Fanta Calcio passa anche da Fanta Virus E ora andiamo con la mia top 11 per la trentesima giornata di Serie A Come vi ho detto in apertura io vi darò la mia top 11 per la trentesima giornata di Serie A In più vi darò una alternativa per ogni ruolo Quindi un giocatore secondo me può rendere veramente bene E una scommessa quindi un giocatore di una squadra che non va tanto bene O un giocatore che comunque non ha questa resa eccezionale quest'anno Ora partiamo con il ruolo del portiere Quindi come primo portiere io vi direi Shevny Shevny impiegato contro il Genoa Non ha giocato mercoledì col Napoli Shevny sarà titolare contro il Genoa E secondo me potrebbe uscire con un buon clean sheet Alternativa per il ruolo dei portieri Vi direi Andanovic dell'Inter contro il Cagliari Non si sa bene se controverà Simeone o Pavoletti Oltre a Joao Pedro che è l'indicato numero uno per segnare Però Andanovic potrebbe uscirse davvero bene Potrebbe uscire con un clean sheet o con una rete subita Non credo di più E adesso veniamo al portiere scommessa Il portiere scommessa è Milinkovic Savic del Torino Credo che pochissimi di voi ce l'abbiano Però è contro l'Udinese L'Udinese ha un attacco veramente poco pungente E Milinkovic Savic potrebbe uscirse veramente con zero gol subiti O uno al massimo E adesso cominciamo la top 11 per quanto riguarda i difensori Qui vi indico tre difensori E sto parlando di Quadrado Quadrado come primo nome per la difesa In questa Juve potrebbe giocare di nuovo schierato a centrocampo In questo 4-4-2 o addirittura nel 3-5-2 Comunque è stato schierato esterno di centrocampo contro il Napoli Potrebbe rivedersi in quel ruolo E in quel ruolo è veramente devastante Perché di fatto è come avere un centrocampista aggiunto Ed è contro il Genoa che non ha una difesa eccezionale Per cui io Quadrado oggi lo vedo veramente veramente bene Altro difensore che potrebbe portare dei bonus Bonus che mancano da un po' di tempo Sto parlando di Teo Hernández contro il Parma Teo Hernández veramente contro una difesa così scarsa Potrebbe portarci davvero tanti bonus Oltretutto c'è Ibra C'è un attacco che comunque ha voglia di segnare Ha voglia di accorciare le distanze con l'Inter Per cui Teo Hernández non dico il gol Ma almeno un assist dovrebbe portarcelo in questa giornata Abbiamo parlato di un difensore fuori ruolo Quindi Quadrado Parliamo di un altro difensore fuori ruolo Quindi Hakimi che gioca a centrocampo nell'Inter Impiegata contro il Cagliari Anche qui difesa non eccezionale quella del Cagliari Attacco invece quello dell'Inter che sta andando molto bene E chissà che Hakimi non ci porti a casa almeno un assist Per cui Hakimi veramente oggi schierabilissimo E adesso veniamo all'alternativa Quel difensore che sarebbe stato messo anche volendo nella top 11 Però lo vedo leggermente meno propenso al bonus rispetto agli altri E sto parlando di Gosens Gosens comunque una certezza Gosens dell'Atalanta impegnata contro la Fiorentina Quindi Gosens anche lui fuori ruolo Per me oggi lo vedo benissimo Ed è da schierare Gosens assolutamente Per quanto riguarda la scommessa Qui c'è il nome più interessante secondo me Reza del Crotone Anche lui fuori ruolo Il Crotone sta segnando molto Ha fatto tre gol contro il Napoli Il Crotone avendo anche perso però 4-3 Però Reza in questo centrocampo contro lo Spezia Potrebbe portarci un qualche bonus inaspettato Per cui Reza oggi non lasciamolo fuori ragazzi Ora veniamo al centrocampo del mio top 11 Nei 4 di centrocampo Inserisco Chalanoglu Anche se è un po' che sta girando così così Chalanoglu oggi potrebbe fare veramente veramente bene contro il Parma Almeno un assist dovrebbe portarcelo Calcolate che batte i calci d'angolo Quindi Chalanoglu secondo me dei bonus Li potrà portare in questa giornata Altro nome per il centrocampo è Veretù Veretù è un po' che manca dal gol È un po' che non batte il rigore Ha avuto quell'infortunio lungo È contro il Bologna E Veretù contro il Bologna potrebbe fare veramente veramente bene Soprattutto se ci fosse un rigorino Lui li batterebbe Quindi Veretù è da schierare oggi Altro nome caldo per il centrocampo È quello di Chiesa Chiesa che ha fatto molto bene anche contro il Napoli ieri sera Chiesa che comunque è contro il Genoa Di fatto è quasi un attaccante aggiunto Chiesa ragazzi non va lasciato mai giù È un top assoluto di centrocampo Quest'anno più che mai Altro centrocampista che di fatto gioca fuori ruolo Quasi trequartista avanzato Io sto parlando di Politano Politano del Napoli Vedrete che oggi sarà titolare contro la Sampdoria Visto che nella partita di mercoledì ha giocato titolare Lozano Dovrebbe esserci la staffetta imposta da Gattuso Per cui Politano dovrebbe partire titolare Politano che di fatto è un attaccante aggiunto E può portarci dei bei bonus per questa giornata del fantacalcio E adesso veniamo all'alternativa Devo essere sincero Ero molto indeciso tra lui e Cialanoglu E sto parlando di De Paul De Paul dell'Udinese contro il Torino Io ho detto che Milinkovic-Savic potrebbe riservarci qualche sorpresa Però è anche vero che l'Udinese potrebbe bollare E De Paul essendo lui rigorista Potrebbe farci veramente portare un più tre per il nostro fantacalcio Quindi De Paul ragazzi dobbiamo schierarlo oggi E veniamo alla scommessa Fa strano metterlo nelle scommesse Ma così è per me Malinowski non ha avuto il rendimento della passata stagione Però oggi sarà titolare quasi sicuramente Vista l'assenza di Pessina Titolare nella Tananta contro la Fiorentina Gioca trequartista Per cui può portarci dei bonus Batte anche i calci piaffati Tra l'altro non i rigori ma i calci piaffati Quindi punizioni e angoli dovrebbe batterli lui Per cui Malinowski oggi secondo me va veramente schierato Se ce l'avete Questa è proprio la giornata in cui non dovete farle errore E lasciare giù Malinowski secondo me Veniamo alle parti calde ragazzi Parliamo di attacco La prima punta che mi viene in mente oggi è Ibraimovic Ibraimovic che col Parma potrebbe ritrovare il gol Ibraimovic che sogna ancora la rincorsa per lo scudetto Nonostante gli unici punti di distacco dell'Inter sul Milan Quindi Ibraimovic ragazzi oggi non facciamo l'errore di lasciarlo in panca Ibra va messo Altro nome caldo per l'attacco è Insigne Insigne contro la Sampdoria Insigne che ha appena raggiunto Maradona nella classifica dei marcatori del Napoli Chissà che non voglia superare il pibe de oro Per cui io Insigne sinceramente oggi lo metterei titolare Oltretutto batte i rigori Insigne batte le punizioni Va messo Insigne ragazzi Va messo Altro nome per l'attacco Io vi direi Lukaku dell'Inter So che è un nome scontato Lukaku Però contro il Cagliari Lukaku può fare veramente veramente bene Occhio ragazzi al suo partner di reparto che secondo me sarà Sanchez oggi Farà staffetta con Lautaro quasi sicuramente Per cui occhio anche a Sanchez ragazzi Comunque Lukaku va schierato sempre praticamente Adesso andiamo nell'altra scelta per la top 11 Quindi l'altro attaccante che poteva stare in top 11 E oggi io vi parlo di Dybala Dybala ragazzi partirà quasi sicuramente titolare al posto di Morata contro il Genoa Dybala secondo me oggi va schierato Non solo perché ha segnato contro il Napoli Ma questa staffetta è quasi annunciata Per cui io Dybala ragazzi lo schiererei titolare oggi Oltretutto ha una voglia matta di riprendersi la Juventus Perché sai voci di mercato che lo vogliono ceduto Per cui Dybala secondo me cercherà di rendere il massimo possibile Devo dire una cosa Sui giocatori della Lazio non ne ho inseriti qua Però guardate che è contro il Verona Che ha una buona difesa Ma anche Ciro Immobile o Caicedo Che doveva partire titolare Possono far veramente veramente bene Veniamo alla scommessa di giornata È Nzola Nzola che è un po' che gira a vuoto Nzola contro la difesa peggiore del campionato Potrebbe regalarci veramente dei gol Forse anche più di uno Quindi Nzola oggi è veramente schierabilissimo Occhio anche a Simi che ha contro Perché anche Simi potrebbe fare bene Comunque vedo favorito Nzola Ora questa era la mia top 11 Più un altro consigliato per reparto E una scommessa Ti invito a lasciarmi un commento qui sotto Se vuoi un consiglio sulla tua formazione Cosa ne pensi dei miei top 11 Dimmi se cambieresti qualcosa O se hai qualcuno di questi giocatori Se questo video ti è piaciuto Ti chiedo di lasciarmi un like Iscriviti al mio canale Se ami il fantacalcio davvero è gratis Solo un tap sul cellulare E se ti va passa in live venerdì alle 17 Altro piccolo annuncio ragazzi Domenica c'è il 15k day C'è la festa per il 15k Saremo in live alle 10 sul canale Viola Per giocare a Rocket League Poi saremo in live alle 12.30 Per seguire insieme Inter Cagliari Alle 15 per seguire Juventus Genoa Poi alle 18 per Roma Bologna E alla sera alle 20.45 Per Fiorentina Atalanta Tutto su Youtube ragazzi E vi aspetto perché ci sarà anche un ricco giveaway Si può vincere La maglietta della squadra del vostro cuore Gentilmente offerta da CalcioStore24.com Un pacco di lattine da 24 E un pacco di lattine da 6 Di BeBud Questo Energy Drink tutto italiano Buonissimo E una tazza dal mio merchandising Merchandising che potete andare a visitare Lo trovate qui sotto Sotto al video Quelle foto che vi fanno vedere Di felpe e maglie a tema Fanta Calcio O col mio logo Sono quelle del mio store ufficiale Se volete andare a farci un salto Ci sono diverse cose carine secondo me Ciao e buon Fanta a tutti ragazzi Ciao e buon Fanta